Quello sui pronto soccorso pediatrici è solo l'ultimo in ordine di tempo dei provvedimenti adottati dalla struttura commissariale nel quadro di un più generale e organico processo di ristrutturazione del sistema sanitario regionale. Tre sono le direttrici percorse da Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo con la fattiva collaborazione della Direzione Generale della Salute della Regione Molise guidata dall'Olita Gallo e la condivisione del percorso insieme al Presidente della Regione Francesco Roberti. Decongestione del sistema, riduzione delle liste e dei tempi di attesa e potenziamento della medicina territoriale con una parola difficile da pronunciare, deospedalizzazione, ma facilissima da capire, viene descritto l'obiettivo di drenare i ricoveri riducendo questi ultimi solo ai casi acuti oppure a quelli legati alle malattie tempo dipendenti e lasciare invece fuori dagli ospedali e sul territorio tutto il resto, dalle visite specialistiche alla riabilitazione alla lungodegenza, meno ospedale e più prossimità. Lo stesso provvedimento che garantisce la presenza dei pediatri di libera scelta nei giorni festivi e prefestivi è un atto che prevede una logistica estranea agli ospedali e agli stessi pronto soccorso di Campobasso, Isernia, Termoli e Agnone. Sono previsti infatti appositi locali atti a garantire il servizio. Appare quindi evidente che il Governo della Sanità regionale ha introdotto una benefica inversione di tendenza che agisce non solo sul quadro economico ma anche su quello qualitativo dell'offerta sanitaria. L'accordo con i pediatri di libera scelta copre l'arco di un anno ma sarà possibile rinnovarlo all'esito di questo primo esperimento. Sempre restando alla sanità si attendono da Roma le valutazioni dei Ministeri di Economia e Salute del programma operativo sanitario 2023-2025 elaborato dai commissari Bonamico e Di Giacomo.